Bellezza in passerella martedì sera a Fiume Freddo Bruzio, il paese di Maria Perrusi, Miss Italia 2009, ha fatto da cornice al concorso Miss Bruzia 2012. Occhi puntati sulle concorrenti, ma come era giusto che fosse, anche sulla madrina della manifestazione, molto a suo agio, nelle vesti di conduttrice. Lei, partita da Fiume Freddo appena 18enne, si è ritrovata a vestire la fascia di più bella d'Italia. Da lì una carriera in ascesa, con campagne pubblicitarie per marchi di moda e non solo, e tanti premi raccolti nella sua Calabria e fuori dai confini regionali. Una modella, ma anche un modello per le tante ragazze calabresi che sognano un posto nel gota del mondo dello spettacolo o della moda. Maria Perrusi non ha infatto perso la sua spontaneità e non ha tralasciato gli studi diplomandosi in ragioneria all'Istituto Tecnico Pizzini di Paola. Martedì, in passerella, le ragazze che hanno partecipato a Miss Bruzia hanno inevitabilmente accarezzato, almeno per un attimo, il desiderio e il sogno di ripetere la fantastica esperienza di Maria. Alla fine, tra le tante concorrenti e alla faccia della scaramanzia, l'ha spuntata la numero 13, Michela Di Santo. Sono contentissima e orgogliosa di aver vinto questo titolo, soprattutto qui nel mio paese. Le mie aspettative sono quelle di continuare su questa strada e, chissà, magari un giorno arrivare più in alto. Grazie a tutti.